Cambio al vertice in Iran. Tra crisi economica, crisi nucleare, tensione nel Golfo, l'ultraconservatore Brahim Raisi si è insediato alla presidenza del paese dopo aver ricevuto l'approvazione della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Una cerimonia che si è tenuta a Teheran alla presenza dei principali leader politici e militari iraniani. Raisi ha promesso al popolo che il paese resisterà alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti anche se le sfide da affrontare sono diverse. Prima tra tutte la situazione economica precaria a causa di proteste scioperi, un contesto aggravato dall'epidemia di Covid-19 e da relazioni diplomatiche tese. E subito sono scattate scintille tra Israele e l'Unione Europea. Il ministro degli esteri dello Stato ebraico ha criticato Bruxelles per aver deciso di inviare un diplomatico al giuramento del presidente iraniano, definito da Gerusalemme il macellaio di Teheran. Il presidente Raisi da parte sua, che fino a poco tempo fa era capo della magistratura, ha sottolineato che l'Iran non si farà comunque intimorire dalle ostilità dei nemici esterni e dai problemi interni.